Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, oggi le celebrazioni per la festa della Repubblica, sino alle 14 circa, chiusura al traffico nell'area tra Piazza Venezia e i fori imperiali. Al momento è chiusa la stazione metro di Colosseo e ci sono modifiche per 30 linee tra bus e tram. Sino alle 13.30 sospesa la linea di bus 40.